Noi non sappiamo se questo è un falso o un'arme, di schede purtroppo in questi giorni ne abbiamo viste tante e ad arte ne sono state mandate fuori tante, c'è qualcuno che dice se ci rassicura, si dice che non ci sono problemi, oggi forse vedremo se queste rassicurazioni saranno vere o saranno la diversiva cupola che a un certo punto ci viene propinata. I dubbi purtroppo ci sono, dubbi che sono tutt'altro che irreali, la larga interpretazione che viene data a piano sociosanitario regionale, che viene praticamente interpretato a seconda di quelle che sono le convenienze, non è una cosa che ci rincuora e tantomeno anche la costruzione del nuovo ospedale Traeste e Monsenice, un ospedale che viene fatto in collaborazione tra pubblico e privato.